del congresso della società delle storiche sono simona bere sono dell'università di bologna farò da cera questo panel molto interessante dal titolo da dove sto chiamando il posizionamento della donna bianca nel discorso coloniale italiano 1893 1939 quindi copre un arco cronologico abbastanza ampio e va a indagare proprio il posizionamento ruolo della della donna bianca all'interno del contesto dell'oltremare italiano perché andremo a toccare diversi diversi regioni io non farò la cera troppo chiacchierona quindi passo presento subito il primo relatore in modo da lasciare spazio ai relatori alla discassa e poi anche alle domande lo presento il primo relatore è michele cento michele cento è attualmente assegnista di ricerca in storia contemporanea all'università di bergamo è stato precedentemente assegnista presso l'università di bologna dove attualmente comunque svolge funzione di tutor didattico insegna anche storia contemporanea presso la scuola superiore di alti studi carlo bo e nel 2017 ha pubblicato un libro molto interessante dal titolo tra capitalismo e amministrazione il liberalismo atlantico di nitti edito dal mulino e successivamente assieme a roberta ferrari ha pubblicato il socialismo ai margini classe nazione nel sud italia in irlanda edito da rubettino ci presenta una relazione molto interessante dal titolo no place for the white woman rosalia bossiner tra colonia e il patriarcato prego michele buongiorno a tutti a tutti grazie simona presentazione di ordinare il panel e grazie anche a valeria di aver accettato di discuterci dunque appunto io presento questo questo relazione su questo volume di rosalia bossiner dal titolo tre anni in eritrea che è stato pubblicato nel 1901 e e che fa riferimento alla diciamo al suo giorno appunto in eritrea tra 1893 e 1895 prima di entrare nell'analisi di questo volume alcune considerazioni diciamo introduttive in primo luogo diciamo la storiografia coloniale ha a lungo tempo ignorato l'esistenza all'interno delle comunità dei colonizzatori eh una alterità che è l'alterità femminile cioè le rappresentate come se fossero quindi un'entità monolitica eh omogenea e coesa e in un certo senso come dire ha riprodotto eh quello che era eh la massima di un funzionario eh britannico in India alla fine degli anni venti per cui la colonia non è un posto appunto per per le donne per le donne bianche da cui eh da cui il titolo ehm in realtà eh le donne bianche nelle colonie eh c'erano eh in misura variabile eh naturalmente la presenza delle donne ha a che fare anche eh con il diciamo il tipo di colonialismo che si va a a impiantare cioè eh normalmente la presenza delle donne cresce se eh vi è un colonialismo di diciamo demografico come si chiama in Italia di popolamento ecco per così dire ehm ma se le donne bianche non sono escluse eh e quindi sono sono incluse nella colonia eh e sono incluse nel discorso coloniale tuttavia sono incluse secondo diciamo sono sottoposte a un'inclusione per così dire differenziale asimmetrica ovvero sono sottoposte a un ruolo che è quello di eh per così dire di addomesticamento eh tanto nei confronti dei dei soggetti nativi tanto quanto dei dei maschi bianchi europei ehm per riprendere una massima di un importante funzionario coloniale francese siamo sempre alla fine degli anni venti del nome George Hardy eh l'uomo resta uomo sotto lo solo sotto lo sguardo di una donna della sua razza e in effetti eh come dire appunto è dello sguardo eh di Rosalia Bossinere di cui ci occuperemo eh facendo però eh presente che si tratta appunto di uno sguardo posizionato in una colonia che però la colonia elitrea che però leggeremo eh come eh come è stato definito uno spazio trasformativo uno spazio di trasformazione eh in cui questo sguardo è posizionato facendo però come dire attenzione al fatto che eh la colonia è pur sempre uno spazio che è attraversato in profondità eh segnato in profondità da preesistenti discorsi tanto coloniali quanto quanto patriarcali insomma ehm le donne bianche in colonia non sono né vittime né libere agenti ma eh diciamo mostrano una gamma di eh strategie orientamenti approcci atteggiamenti che come è stato detto da Margaret Strobel e Nupur Ciauduri un importante volume dell'inizio degli anni novanta eh vanno dalla complicità alla resistenza ovvero eh la colonia eh offre eh molteplici eh la possibilità come dire di accedere a molteplici performance identitari ehm che è come dire è la 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 il genere del posizionamento se mi passate l'espressione conta nella misura in cui eh o il genere dello sguardo conta nella misura in cui eh le scene che che di norma vediamo non hanno a che fare con eh tanto a che fare quanto meno con la grande politica la grande diplomazia o le grandi battaglie eccetera eh per quanto ovviamente questo ci sia sebbene sia di norma eh come dire eh siano racconti per interposta persona per così dire ma non ho più a che fare con quelli che Hans Stoller ha chiamato microsites of familial and intimate spaces e sono questi spazi che sono però anche le zone di contatto con l'altro con le altre e gli altri allora il punto mi pare che non si tratti tanto e così cercherò insomma di leggere questo questo volume eh di eh idealizzare resistenze femminili tanto al colonialismo quanto al patriarcato sebbene poi come vedremo ci sono delle differenze eh quanto invece di individuare degli spazi di negoziazione dell'agency femminile mh e individuare in questi questa diciamo in questi spazi di negoziazione elementi di tensione e torsione all'interno del discorso eh coloniale e patriarcale eh dando adesso più nel dettaglio nell'analisi di questo volume eh partirei dal fatto che si tratta di un documento singolare eh singolare in un duplice senso eh il primo senso è è che a mia conoscenza si tratta eh di un un documento unico nel senso che eh la prima italiana in colonia aver pubblicato eh un eh diciamo le sue memorie eh non non mi pare che in questa altezza temporale vi siano altre testimonianze ma insomma spero eventualmente di essere smentito ehm è singolare anche perché appunto questa precauzione di metodo eh metodologica eh ecco qua quanto andrò a dire non vuole essere eh minimamente una teoria eh vuole semmai essere un'ipotesi eh di lavoro perché appunto eh la mia relazione è centrata su questo unico eh testo questa unica fonte quindi appunto eh si tratta di ipotesi e che spero eh come dire anche la base eh del dibattito e la discussione di poter eh come dire arricchire e eventualmente modificare e cambiare ehm ma tornando eh tornando a Rosalia Bossiner eh dicevo prima era eh stata in colonia del 1893-1895 eh aveva scritto già in quella in quella fase questo volume è pubblicato anni dosi e anni dopo eh realtà raccoglie rimaneggiati articoli che lei aveva scritto per l'illustrazione italiana articoli che hanno un certo successo in patria e e d'altra parte anche il suo volume pubblicato da Cogliotti che era una casa editrice insomma di una certa rilevanza che pubblicava Fogazzaro dell'Eden insomma non è un volume così di nicchia ehm perché perché in Eritrea? Eh per perché il marito eh colonnello Domenico, colonnello Marchese, Domenico Piena via Vivaldi, eh riceve l'incarico di comandare la zona di Asmara. Ehm e il libro infatti si apre con questa scena eh la scena del eh dell'invito del colonnello alla moglie di eh seguirla o di seguirlo eh in Eritrea. E qui la prima cosa che vediamo è che appunto poi mostra anche la posizione autolocata di di socialmente elevata di 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 Rosalia Bossiner è la titubanza. Eh la titubanza che è quella di abbandonare eh diciamo gli agi domestici e gli affetti eh familiari. Eh alla fine eh ovviamente in poche righe la 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 sua decisione diciamo la titubanza svanisce ma perché? Perché eh come dire ritiene sia ingiusto eh sacrificare la missione del marito, la carriera del marito ma anche una missione proprio per la fate e per la nazione in nome del suo egoismo. Quindi alla base c'è un sacrificio di sé. Eh certo non può esserci quello che invece era eh diciamo un topos eh nella eh diciamo tra i viaggiatori maschi dell'epoca in colonia ovvero il desiderio di avventura. Questo non c'è almeno inizialmente ma in realtà se basta scorrere qualche pagina ovvero eh via via che Rosalia si allontana dall'Europa eh questo desiderio emerge ed emerge sempre più forte dopo aver lasciato Massawa che viene considerata ancora troppo europea per spingersi verso Asmara dove dove avrebbe poi risieduto. È un racconto ovviamente questo racconto di questo viaggio che viene in diciamo inquadrato in un capitolo dal titolo come il sogno è appunto diciamo narrato con toni orientalisti esotici insomma nulla di particolarmente sorprendente. Ecco appunto il fascino di questa vita eh primitiva eh semplice non dirado selvaggia lontano dice dalle pastoie eh convenzionali che però permette appunto a Rosalia di avere una vita sociale viva eh vivace ricca ehm racconta appunto eh diciamo lo come dire se la 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 sua vita abitava Verona eh diciamo era eh inchiusa nello spazio domestico nel sane salotto nel salotto e il fuori era visto attraverso la finestra che in qualche modo appunto rappresentava eh quindi la barriera eh che 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 separava i due i due spazi eh lo spazio domestico in cui invece viene Eritrea è assolutamente aperto eh racconta appunto delle molteplici visite visite che non vengono ci tiene a precisarlo non vengono fatte a lei in quanto moglie del comandante ma in quanto appunto Rosalia Bossinera ehm sono visite eh tanto di nativi quanto di italiani maschi e femmine eh ed è appunto questo spazio eh domestico aperto e anche promiscuo evidentemente eh fa sì che eh come dire le norme dei ruoli di genere vengano come dire messe in intenzione vengano riscritte così vediamo uomini soldati per aggiunto soldati italiani che erano appunto le dipendenze del marito che eh cucinano che cucciano che rassettano casa che aiutano insomma nei lavori nei lavori domestici e e in questo senso ehm e ciò avviene anche in assenza del marito sebbene poi eh come dire si premuri di precisare che quando il marito cosa che accadeva spesso naturalmente era fuori dalla smara ehm veniva diciamo affidata la tutela sorveglianza di diciamo di padre Bonomi insomma di ecclesiastici o di altri ufficiali però ecco una notazione sulla eh appunto sul sul marito che è una figura eh coevanescente nelle in questo testo nel senso che compare nella prima scena e poi riappare episodicamente eh di solito sempre come istanza d'ordine come istanza di contenimento del suo desiderio di avventura che si fa sempre più forte fino a che non lo definisce una febbre di avventura. Eh ecco eh questa istanza di contenimento d'ordine però può essere contestata da qui appunto eh spazi di negoziazione eh e lo vediamo in un caso specifico quando viene inaugurato eh il primo villaggio italiano in Eritrea Godo Felassi ehm ehm il marito non vuole che Rosalia lo 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 accompagni perché è un viaggio pericoloso insomma vi lascio immaginare ehm Bossiner però insiste e e e alla fine la spunta eh riesce a appunto a ad andare eh a diciamo appunto a inaugurare eh la eh presenziale la cerimonia di inaugurazione di questo villaggio cerimonia a cui rappresenta l'onorevole Franchetti che era il grande profiziatore anche di questa iniziativa eh pone la sua idea di colonialismo demografico il posto al sole e eccetera progetto come sappiamo fallisce ma che viene eh che produce però forti tensioni in Eritrea come vediamo anche un pochino più avanti. Eh insomma l'insubordinazione o quantomeno la contestazione dell'autorità maritale avviene eh in nome di un fine più alto. Eh un fine che è quello della eh diciamo un progetto della civilizzazione della nazione ehm Bossiner si sente autorizzata a contestare l'ordine del marito perché come dire sta agendo come rappresentante della cioè si sente anch'essa rappresentante della nazione e da questo punto di vista ehm pensiamo anche agli studi di di Cynthia Helloy eh rispetto alle donne eh alle mogli per esempio degli ambasciatori o di funzionari pubblici anche in alcun insomma non nel contesto italiano eh nel contesto anglosassano in altri contesti ecco vediamo che c'è anche qui una una linea una linea di continuità. Ehm dunque ehm diciamo Bossiner si muove eh come dire tra eh queste contestazioni che però sono in qualche modo autorizzate da fini più alto e d'altra parte il tipo di genere letterario che adotta per raccontare la sua esperienza in colonia è quello del diario di viaggio del della letteratura di viaggio insomma è un genere autorizzato per le per le donne. Ehm solo che è qui appunto il genere nuovamente conta il genere dello sguardo conta il tema dell'esplorazione viene declinato in chiave femminile eh ovvero non non secondo eh canoni eh della conquista dell'assoggettamento ma al di là insomma del fascino esotico del continente africano questo può essere sicuramente visto in qualsiasi ehm diciamo anche ovviamente nella prospettiva maschile e c'è più un diciamo un interesse alla scena le scene di vita eh privata sociale per così dire in cui può essere messo eh diciamo azionato attivato eh uno spazio di comunicazione con 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 l'altro appunto. Se guardiamo a un a un diciamo a un volume pubblicato più o meno in quegli anni e che anche qui potrebbe essere eh inquadrato nel genere eh della letteratura di viaggio penso al volume di Ferdinando Martini nell'Africa italiana sensazioni ricordi ne vediamo le le differenze cioè il volume di Martini è di fatto una disamina fredda e arida per così dire delle possibilità di sviluppo economico in Eritrea proprio in una fase in cui si dibatteva ovviamente sulla eh opportunità o meno di investire eh diciamo risorse economiche ma anche politiche evidentemente militari nella nell'Africa orientale ehm insomma il libro di Martini eh 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 assolutamente esprime un'idea di dell'altro come oggetto letteralmente lo oggettifica l'oggettifica eh e che nel suo volume eh Bossiner si stesse muovendo dentro spazi autorizzati lo dimostra anche il ruolo che scrittaglia per se stessa che quello di custode di quello che è stato definito l'ordine parentale della della nazione tra trasportato però proiettato eh oltre mare eh eh cioè insomma su questo eh penso anche alle cose che ha scritto Cristiano Lombardi di Oppo ma non solo eh su Rosalia Bossiner appunto eh è il ruolo della della madre della della nazione eh e non a caso infatti si prende cura dei soldati prepara loro le pietanze italiane per farli sentire a casa rivolge pensieri commossi alle madri dei soldati caduti o anche comunque dei soldati di distanza in Eritrea e tema su cui torniamo alla fine istituisce un orfanotrofio per i bambini meticci abbandonati. La madre della nazione è anche evidentemente la custode di un codice della domesticità che si biforca. Da un lato e appunto l'abbiamo appena detto verso verso i maschi italiani eh perché appunto è giusta per così dire la massima di addi di cui dicevo prima la donna rimane scusate l'uomo rimane uomo solo sotto lo sguardo di una donna della sua razza ma anche evidentemente di addomesticare no? I selvaggi africani. Eh la loro spiccata indolenza, le loro mode stravaganti, la loro libertà sessuale che è peraltro avallata da un facile accesso al divorzio eh tanto per eh i fedeli eh di di religione musulmana tanto per quelli di di religione eh di religione copta e il problema per dal punto di vista di Bossiner è quello dell'abbandono dei dei bambini dallo stato di abbandono in cui vivono i bambini. Insomma Bossiner mentre usciva eh dal privato accedeva a un ruolo eh pubblico eh quello della madre della nazione appunto che tuttavia era normato cioè era autorizzato nella cooperazione gerarchica tra i generi che l'ordine parentale familiare della nazione eh prescriveva. Come ha scritto Katia Papa l'ideale della maternità sociale permetteva alle donne di accedere alla sfera pubblica nazionale senza inclinare l'effettivo equilibrio tra i sessi. Ehm ovvero che Bossiner si avventura i spazi autorizzati segnala che tali spazi sono segnati da una normatività i cui autori sono sono maschi. Tuttavia abbiamo parlato anche dalla colonia come spazio trasformativo e in effetti una trasformazione un mutamento avviene. ehm e avviene ovviamente come dire eh nel momento in cui ehm due scarti della razionalità occidentale due altre due alterità la donna e il soggetto nativo si si incontrano eh innescando eh devo dire dei cortocircuiti eh sorprendenti per così dire ovvero ciò che la ragione eh occidentale personalmente posizionata ha cercato di allontanare come spettro per per così dire ehm in una logica omogeneizzante e non e non come dire di neutralizzare ciò che ciò che è altro da sé. ehm ecco e questo eh diciamo incontro tra Bossiner e perdonatemi l'espressione totalizzante l'Africa ehm ecco può essere considerato può essere rappresentato come uno sguardo allo specchio. ehm ecco in Africa eh in Eritrea nello specifico Bossiner vede lo specchio della sua anima, della sua libertà, della sua indipendenza. in quel sublime africano, sublime quindi come qualcosa di altro, di estraneo e di diverso dalla razionalità occidentale, calcolatrice, strumentale, eccetera, ecco eh ecco in questo in questo incontro può riscoprire qualcosa che aveva dentro di sé ma che doveva essere sempre eh come dire tacitato, neutralizzato. ehm e cioè quell'ansia di libertà che d'altronde appunto la ragione maschile occidentale avrebbe rischiato sempre di ehm tradurre come irrazionalità, emotività, passione, manie, se non di vere e proprie isterie o di altri stereotipi a cui siamo ovviamente abituati. ehm ecco leggo una citazione dal testo di Bossiner. Questa vita semplice e primitiva, questa libertà, questa indipendenza, ideali della mia natura insofferente di giochi, di pastoie convenzionali, di ridicole e meschine piccinerie da salò, questa vita mi ritempera lo spirito e il cuore. Mi infonde galiardie nuove, mi riveste energie sopite, mi ridona l'energia, l'allegria, scusate, e quasi direi l'abbaldanza dei vent'anni. E' interessante che questa, diciamo, questo reingresso nella storia, per così dire, di un soggetto senza storia, considerato naturalmente, avvenga in un continente, avvenga in uno spazio che, come dice già da prima di Egel in verità, in avanti, e appunto era stato classificato come extra storico. E d'altronde, la stessa Bossiner non fa eccezione da questo punto di vista, in un capitolo in cui da dei cenni storici sull'Eritrea, fa iniziare la storia dell'Eritrea dal 1495, cioè dalla penetrazione dei portoghesi in Africa orientale. E qui, tuttavia, essa ritrova un ruolo pubblico, appunto, come dicevamo prima, che è quello di madre della nazione, ma anche di rappresentante e di collega che, insomma, parla a suo nome, nelle vesti di giornalista. E così scrive. Avrei scritto ed operato. Già che ero entrata nel mondo giornalistico per la gran porta, avrei continuato in quel nobile arringo, narrando e descrivendo personaggi, costume, costumi, scene locali, impressioni di uomini e cose, raffrontando quei paesi e quegli usi, con le terre nostre e con gli usi nostri. E qui, ovviamente, vi è il tema della civilizzazione, naturalmente, di cui in questo raffronto va, diciamo, emerge. Rosalie è perfettamente consapevole di questo ruolo pubblico, tanto più che nel 1903, due anni dopo la pubblicazione di questo volume, chiederà e otterrà, peraltro, al Ministero degli Esteri, la medaglia commemorativa d'Apia. Ma appunto, tornando allo specchio, a questo specchio di cui parlavamo prima, lo specchio non rimanda al doppio, non rimanda semplicemente a un altro sé, a un sé riflesso. Ecco, nel processo di riflessione avviene, in realtà, la mutazione. Cioè, avviene la metamorfosi in questo riconoscersi, in questo rispecchiarsi nell'Apia. A questo punto di vista, credo che siano avuti alcune indicazioni di lettura che Spivak dà rispetto a un altro romanzo che è Il grande male dei sargassi di Jean Rhys, dove vediamo la protagonista di origini giamaicane, Antoinette, maltrattata e oppresso da un violento marito inglese, che alla fine del romanzo vede, incorniciata in uno specchio, l'immagine di Bertha Mason, che è l'alter ego alienato, coloniale e ribelle di Jane Eyre, nell'omonimo romanzo di Charlotte Bront. Ovvero, è, come dire, in questa... nello specchio, appunto, non vede, appunto, il suo doppio, ma vede il sé reso altro, dice Spivak. E tornando, insomma, vede appunto una metamorfosi che, come vedremo, è assolutamente improvvisa. E dice, dice Bossiner, è un'especchiazione dell'anima mia fatta migliore, il mio essere vibrante di poesia, è quel sublime africano di cui dicevo prima. Qui prosegue Bossiner, mente e cuore trovano materia e spazio a loro espandersi. E aggiunge, lasciate che io beva ancora quest'onda di vita calda che mi ha rinovellato il sangue, ha serenato il pensiero, ha affinato il sentimento. Lasciate che mi penetri, si imprima per sempre la visione superba, dei superbi spettacoli. Lasciatemi li godimenti sereni, forti, veri, che da questa terra... che da questa terra, scusate. Non mi togliete l'indipendenza, la libertà, beni che nel mondo incivilito non troverò più mai. Ecco, è nella visione dell'Africa che si imprime al suo sguardo l'indipendenza e la libertà, che vengono appunto strappati a quella civiltà che in qualche modo per le donne le teneva sotto sequestro. È interessante secondo me che questa metamorfosi avviene in maniera improvvisa, cioè non è un romanzo di formazione, non è già una bildung, è una metamorfosi imprevista, improvvisa, e appunto in mezzo a tanti stereotipi. Ecco, che sfugge da questo punto di vista a tutti i meccanismi della causalità e della temporalità, quella storicistica naturalmente, che però è stato il canone occidentale di lettura nell'altro da sé. E cioè l'extra storicità dell'Africa che consente questa trasformazione improvvisa, come peraltro qualche anno dopo avrebbe consentito a Filippo Tommaso Marinetti di inscenare in Amica la nascita dell'uomo futurista, il maffarcale futurista. Insomma, credo che qui ci sia un punto importante, nel senso che questa frattura, questo discorso patriarcale, appunto questa rivendicazione di libertà, di indipendenza, che è resa possibile dall'incontro coloniale, non ne genera tuttavia un'altra nel discorso razziale, coloniale. Sembra anzi che la libertà e la soggettività della donna, e in questo caso di Rosalia Bossiner, possa essere ritrovata proprio in virtù delle gerarchie razziali che vivono nella colonia, che redifiniscono lungo la linea del colore i rapporti tra i sessi. È noto per esempio che il codice civile coloniale per l'Eritrea, che era stato approvato nel 1909, e stabiliva nel caso remotissimo naturalmente di matrimonio tra donna bianca e maschio nativo una parità giuridica tra i sessi, cosa che il codice civile italiano non riconosceva assolutamente nel caso di unione tra due italiani. Sono un po' in... Manca quanti minuti ho, Simona? Non ne hai più, però concludi. Cerco di tagliare. Allora, dunque, ecco, alcune cose. L'incontro con la donna, con la donna di tre, con la donna africana in generale. Quindi, dal primo incontro è sessualizzato, per così dire, nel senso che il primo incontro è con donne che sono intente nella danza del ventre, che è un tipico topos della letteratura maschile, laddove però nella letteratura maschile ha un elemento di seduzione, conquista, la scibia, che invece qui assume più le forme della presa di distanza rispetto al canone di femminilità che Rosalia vuole incarnare. Rispetto invece alle donne eritre, con cui entra in contatto più quotidianamente, più stabilmente, vi è compassione, perfino vicinanza, che però è, vediamo, va incardinata in una precisa gearchia di ruoli, ma su questi sono diversi studi che mettono appunto in luce il maternalismo spesso delle donne bianche nella colonia. Rispetto al maschio eritreo c'è un binarismo che però in realtà sono dovuto tagliare ma c'è anche nelle donne, ovvero o viene rappresentato come il buon selvaggio, c'è un capitolo su Garesgear che è un ascaro e l'ascaro è assolutamente come dire nella sua rappresentazione è l'uomo fedele al padrone bianco oppure come il villain. È il caso di Batagos che poi è un personaggio importante perché nel dicembre 1894 guida una rivolta contro gli italiani dopo aver Bostinello riceve in casa peraltro dopo aver mostrato insomma fedeltà, amicizie eccetera eccetera. Ecco dicevo l'incontro con invece con i bambini toroafricani con i meticci è presente secondo me un certo interesse perché da un lato si si incardina nella logica della civilizzazione liberale però con alcune sfumature diverse. in primo luogo il primo impatto è quello di letteralmente ripugnanza cioè una ripugnanza rispetto all'unione tra il bianco e il nero tuttavia anche lì in maniera improvvisa si ricorda di essere una madre patriota quindi anche però una madre e quindi come dire capisce di avere il compito di prendersi cura di queste creaturine abbandonate perché si tratta ovviamente dei bambini toroafricani i cui padri sono tornati in Italia dimenticandosi come dire di aver lasciato un bambino in Eritrea e ritiene che debba toglierli dallo stato di abbruttimento e allevarli umanamente e cristianamente e la chiama la logica del cuore ma è la logica della civilizzazione semplicemente declinata al femminile come cioè una specifica appendice domestica di un più generale processo di incivilimento destinato a colmare il ritardo culturale degli Eritre e scrive se in Africa noi siamo venuti per portare la civiltà se l'opera nostra di incivilimento deve far rifugio dei suoi benefici effetti su tutto e su tutti se trascinati talora da male inteso sentimentalismo ci lasciamo andare perfino a delle esagerazioni perché tenere chiuso il cuore solo a queste innocenti creaturine di Dio colpevoli solo di avere il sangue commisto al nostro perché offrire al nero lo spettacolo dei nostri figli abbandonati le domande di Bossiner cioè mostrano che la civilizzazione europea presenta dei vuoti di civiltà e che la donna bianca è chiamata a colmare ovvero la donna bianca deve assumere come dire uno specifico pezzo del fardello della civilizzazione che è un pezzo ovviamente che rientra nella domesticità e come dire è il lato invisibile nascosto della civilizzazione e al tempo stesso mostra anche delle contraddizioni interne al concetto di civilizzazione che appunto viene sempre differita nel tempo insomma in conclusione possiamo dire che Bossiner guadagna spazi di negoziazione e quote di potere gode di una libertà di una indipendenza impensabile in patria ma solo fin tanto che resta una colonia non soltanto finché la colonia resta tale ovvero fin tanto che è assicurato il dominio razziale e le gerarchie e separazioni che da esso discene fin tanto cioè che l'ordine razziale individua e autorizza spazi di agibilità per le donne bianche che vengono chiamate a confermarlo o a sublimarlo ovvero assumere su di sé uno spezzo specifico del fardello della civilizzazione attraverso un lavoro di cura di cura appunto svolto verso i coloni bianchi e le colonizzate anche il fardello della civilizzazione richiede cioè una precisa divisione del lavoro questo non significa che l'ordine del discorso patriarcale non venga inclinato ma si tratta di inclinature che permettono torsioni ma non eversioni della norma siamo insomma lontani dalla categoria di pura di resistenza a cui facevamo all'inizio eppure non possiamo dire che tanto il discorso patriarcale quanto quello coloniale rimangano intatti dopo il passaggio di Rosalia Bossinera in Eritrea occorre invece riconoscere che il discorso coloniale si arricchisce di nuove verità non del tutto coincidenti con quelle maschili e che quello patriarcale venga rivisto sia pure tramite un parallelo tra famiglia e nazione che tuttavia consente alla donna di accedere ad una dimensione pubblica altrimenti ad essa preclusa che nuovi spazi di libertà e pubblicità si aprano a Bossinera mi pare lo dimostri la malinconia che accompagna l'addio all'Eritrea e la partenza per l'Europa che le fa dire lasciatemi libera su mio mangasha mentre si affaccia allo spettro freddo delle oppressioni artificiose che mi aspetta grazie grazie Michele tanti spunti tante suggestioni molto molto interessanti allora darei rapidamente la parola al terzo e ultimo relatore prima poi della della discussant che è Francesco Casales dottorando all'Università di Pavia attualmente il suo progetto di ricerca incentrato sulla storia del romanzo coloniale italiano tra il 1913 e il 1943 con una particolare attenzione per gli aspetti della produzione e della distribuzione appunto dei romanzi nonché per la loro strutturazione narrativa e ideologica ha pubblicato diversi saggi su questo tema su studi culturali moderni itali e ha in pubblicazione altri saggi su Zaprudere Transalpina il titolo della sua relazione è molto evocativo faccetta bianca autrice personaggi femminili nel romanzo coloniale italiano prego Francesco grazie Simona grazie a tutte per essere qua ad ascoltarci allora io anche per cercare di rimanere nei tempi farò una lettura del mio intervento così cerco di rimanere preciso allora l'obiettivo del mio discorso oggi è affrontare un tema che mi sembra avere subito una certa sottorappresentazione nel discorso storiografico sul colonialismo italiano se infatti i lavori sulla rappresentazione della donna nera e del suo rapporto con la società coloniale tendenzialmente maschile e bianca hanno negli ultimi anni avuto grande risonanza io credo che non lo stesso si possa dire per la figura della donna bianca nel medesimo contesto per chi come me poi si occupa del rapporto fra letteratura e storia e in particolare del romanzo come fonte storiografica io credo che tale questione assuma una doppia connotazione perché da un lato c'è il problema delle autrici delle romanziere bianche che si occupavano di colonia sia che vi avessero vissuto sia che non vi avessero vissuto e ne scrivessero soltanto ma dall'altro lato se dal mio punto di vista in maniera altrettanto interessante c'è il problema dei personaggi femminili bianchi della loro funzione sociale e narrativa all'interno dei romanzi stessi dunque il mio intervento si propone di indagare questa frattura che a me sembra di poter individuare fra le autrici e i loro personaggi più in generale mi domanderò che tipo di rapporto sussista fra le autrici donne e il romanzo coloniale in generale e più nello specifico che peso possa avere il posizionamento delle autrici donne nel loro contributo alla formazione del discorso coloniale italiano chiaramente dato il breve tempo che ho a disposizione non potrò come dire fare un discorso generale ma preferirò appoggiarmi a delle fonti e in particolare saranno due romanzi La sposa bianca di Pina Ballario pubblicato nel 32 e L'oasi di Leda Raffanelli pubblicato sotto pseudonimo nel 29 sotto pseudonimo per aggirare la censura vedremo essere un romanzo molto particolare questo della Raffanelli e infine alcuni racconti che invece sono contenuti nella silloge Donne e non bambole del 1930 di Augusta Perricone Violano però prima di come dire affrontare il discorso basandomi sulle fonti vorrei porre molto rapidamente una questione teorica e analitica o meglio una questione di metodo in realtà che è la distinzione concettuale che viene operata nelle fonti dell'epoca fra donna e femmina che vedremo essere una diade intorno a cui viene costruita tutto un discorso che proverò ad analizzare allora nell'introduzione alla raccolta di Perricone Violà quindi Donne e non bambole abbiamo la prefazione di Emilio De Bono che allora era già ex ministro delle colonie ma insomma ci dà anche un attimo l'idea dell'importanza di questo volume cito dalla prefazione di De Bono sì tutti noi che abbiamo vissuto in colonia abbiamo avuto occasione di parlare e di trattare con qualche persona di sesso diverso maimè femmina non donna cioè per De Bono l'esperienza dell'essere donna mi sembra che possa essere slegata dall'appartenenza al sesso femminile sesso e genere non coincidono quindi non basta essere femmina per essere donna è necessaria un'eccedenza un genese qua che non è facile definire ma che è intuitivamente e pre-razionalmente individuabile dal lettore della prefazione questo genese qua secondo me e cercherò di mostrarlo anche poi nei testi si sostanzia nell'appartenenza razziale cioè per De Bono essere donna non discende dall'artificialità del costrutto culturale della femminilità ma dall'intersecazione del dato di genere con quello razziale la femmina non è il sesso della donna ma una sua forma incompleta una versione imprecisa di ciò che in fin dei conti solo la bianchezza potrà rendere possibile cioè la femminilità positivamente intesa cioè una femminilità che pur non prescindendo dal dato biologico perché poi si costruisce tutto intorno alla maternità quindi non prescinde dal dato biologico ma è capace di produrre un eccesso che la innalza dall'animalità all'umanità propriamente intesa quindi dall'animale femmina alla donna l'eccesso che crea la donna rispetto alla femmina va anche quindi identificato abbiamo detto in un altro elemento che potenzialmente però è fautore di alcune ambiguità cioè la maternità cioè che è la stessa cosa il matrimonio intesi come momenti di attivazione della vita spirituale della nazione e questo elemento è particolarmente importante se prendiamo in considerazione il fatto che il rifiuto di questa condizione di maternità e matrimonio palesa la femminilità della non donna della femmina schiava delle proprie passioni e della lussuria ma la femmina non è soltanto l'indigena molto spesso la femmina viene fatta coincidere con la donna bianca non convenzionale non tradizionale cioè la donna moderna emancipata mette in crisi la rappresentazione di un universo liscio privo di increspature in cui si possa effettuare un confronto fra donne e femmine su sola base etnogeografica la donna bianca emancipata è l'altro estremo della costruzione narrativa del modello di femminilità un estremo che con la donna indigena condivide molti punti di contatto perché entrambe sono inaffidabili sensuali incapaci di amare profondamente infedeli ma non li condivide tutti come vedremo però la donna emancipata rifiutando la posizione socialmente attribuita alla donna e questo è un elemento fondamentale viene espunta dalla comunità immaginata della nazione bianca e diventa a tal punto irriconoscibile da poter essere accomunata ai selvaggi allora proviamo a spostarci verso gli esempi all'interno del romanzo coloniale secondo me la costruzione narrativa del soggetto donna opera attraverso tre elementi a combinazione variabile abbiamo la donna modello bianca la donna extra europea che sia nera araba levantina non conta diciamo basta che sia non bianca sostanzialmente e la donna bianca emancipata eventualmente ci sarebbe una quarta categoria che la donna bianca insabbiata cioè la donna bianca che si reca in colonia e perde i propri connotati razziali però adesso non avevo tempo di affrontare anche questo tema quindi nel caso poi nelle domande possiamo parlarne tuttavia nel corpus di romanzi a cui io faccio riferimento che si compone di circa 150 180 romanzi coloniali pubblicati come diceva Simona fra il 13 e il 43 io ho rintracciato onestamente un solo tipo di femminilità bianca un solo esempio anzi di femminilità bianca normativa positivo nel senso che i caratteri propri del modello sono enunciati espressamente e non vanno ricercati nel fodero del discorso nel suo non detto il personaggio di cui parlo è Paola Aschieri figlia di un soldato coloniale di stanze in Somalia nei primi anni venti e protagonista del romanzo di Pina Ballario La sposa bianca Pina Ballario era un'autrice molto nota di romanzi rosa tra anni venti e trenta che in realtà poi riuscì a riciclarsi anche in epoca fascistissima che riuscì a riciclarsi in realtà nel primo dopoguerra come autrice di romanzi per l'infanzia di come dire pedagogia repubblicana cioè un personaggio veramente molto interessante allora il suo il protagonista del suo romanzo La sposa bianca Paola Aschieri è presentata come una donna coraggiosa volitiva casta profondamente materna di aspetto non particolarmente piacevole e lei tuttavia portatrice di alti valori morali così e cito con un copia in collo diciamo da diversi punti del romanzo il suo viso non bello è tuttavia puro e preciso la sua scarsa leggiadria viene compensata da un grande spirito di sacrificio nelle parole del suo innamorato Galeazzo Moravia ella non è bella ma è più che bella cioè mi sembra di poter dire che stiamo qui assistendo a una rielaborazione del connubio tra bellezza e moralità un calosca e agazzos che viene ribaltato in chiave strapaisana e ciò è vero al punto che in conclusione del romanzo Paola deciderà di restare a fianco del suo eroe coloniale e vivere una vita di frontiera preferendo affrontare i rischi connessi a tale scelta piuttosto che rientrare nella civiltà degenerata della città di Chisimaio che qui è assunta immagine della metropoli europeizzata coloniale degenerata tuttavia per quanto tratteggiata positivamente Paola Schieri non potrebbe non dico rifugere ma nemmeno trovare uno spazio narrativo consono alla propria statura morale se non fosse inserita in un costante paragone con almeno altre due figure di donna decisamente meno positive e cioè utilizzando quel lessico meno donne bensì femmine i due personaggi sono infatti Giuliana una giovane bianca emancipata e Neber tipico modello della femme fatale indigena entrambi i personaggi si pongono come dirette avversarie sessuali e in parte sentimentali di Paola ma rispetto a quest'ultima Giuliana e Neber ignorano qualsiasi forma di pudore perché sono femmine non sono donne e hanno dunque un netto vantaggio dal punto di vista della conquista sessuale infatti per prime giacciono con Galeazzo l'innamorato di Paola la cosa interessante però è che Galeazzo Moraria appunto l'innamorato di Paola non ne trae alcun piacere se non un mero piacere fisico animale per Galeazzo il salto di qualità si avrà con Paola cioè per il maschio bianco il salto di qualità si avrà con Paola sarà solo in quel frangente a causa del rifiuto di lei di concedersi sessualmente che la relazione può venire disinnescata in qualche modo e reinserita all'interno di un sistema di valori condiviso come il matrimonio cioè attraverso le due fasi precedenti Neber e Giuliana l'indigena e la donna emancipata le due femmine il maschio italiano capisce che una donna esiste che una forma d'amore superiore esiste ed è raggiungibile tutto quello che deve fare è indirizzare il proprio sentimento verso un individuo capace di accoglierlo cioè la donna bianca tradizionale materna e casta allora passiamo ora al secondo esempio di narrativa di autrice donna di cui vorrei parlarvi brevemente si tratta della silloge come vi dicevo donne e non bambole di Augusta Perricone Violà quest'ultimo è un personaggio anche la molto interessante perché moglie di un soldato coloniale di stanza in Libia a differenza di Ballario e anche come vedremo della Raffanelli può vantare un'esperienza diretta della colonia fu autrice molto prolifica e molto nota nell'ambito della letteratura coloniale e addirittura io ne ho trovato un intervento nel battesimale ad esotica che era l'unica rivista sostanzialmente di letteratura coloniale pubblicata in Italia tra il 26 e il 27 diretta da Mario De Gaslini che apriva i suoi primi numeri i suoi primi 4 o 5 numeri con questo battesimale in cui figure di spicco del mondo coloniale davano la propria benedizione sostanzialmente a questa rivista e tra le varie benedizioni del battesimale abbiamo appunto quella di Augusta Perricone Violà allora nella sua raccolta del 32 donne e non bambole la Perricone Violà si proponeva di raccontare da una prospettiva realistica la condizione di vita delle donne indigene nel contesto della dominazione italiana della Libia e proprio De Bono nella sua prefazione insistere su questo obiettivo e cito bisogna essere donna nel senso più nobile e completo della parola e bisogna aver vissuto in Africa molto tempo con la volontà e la capacità di capire per poter scrivere novelle così profondamente vere come quelle che si leggono in questo volume allora la raccolta è molto ricca e quindi è impossibile affrontare ogni singolo racconto ne racconteremo due molto brevemente allora il primo si intitola Piccola Madonna Blu dell'Oasi ed è una sorta di racconto autobiografico o perlomeno io così l'ho inteso la storia è abbastanza lineare cioè una donna bianca appena divenuta madre si trova in un'oasi per ragioni non meglio specificate un'oasi della Libia ed è priva del latte per nutrire il proprio bambino una donna indigena si offre di farlo al suo posto nonostante abbia molta paura perché c'è questa superstizione per cui se una donna pare perlomeno è un motore narrativo molto efficace in questo caso la superstizione che se una donna con un figlio maschio appena nato allatta il maschio di un'altra donna il proprio figlio morirà quindi questa donna si dimostra estremamente generosa perché cosa fa allatta il bambino e gli salva la vita l'altro racconto si intitola Fra Dune e Curbi Curbi sarebbero in questo racconto il nome che viene dato alle abitazioni degli Ascari e si svolge un'unica scena introducendo un confronto diretto fra un gruppo di donne bianche che prendono l'aperitivo sulla terrazza di un oasi insieme ad alcuni soldati coloniali e un gruppo di donne indigene che le osservano da lontano allora in entrambi questi racconti la distinzione fra donne e femmine individuata da De Bono è più che mai attiva però in maniera molto diversa rispetto a Ballario qui le donne sono i personaggi indigeni che sono le donne e non sono bambole mentre le femmine le bambole sono le donne bianche emancipate così nel racconto dedicato alla maternità quella piccola Madonna blu dell'oasi per una buona metà della lunghezza della storia che quindi in realtà in cui la trama non procede ma è proprio l'autrice che interviene assistiamo al confronto diretto e cito tra l'altro adesso citerò due pezzi che sono su due pagine che si fronteggiano del libro per darvi l'idea di quanto questo confronto fra le indigene e le donne emancipate sia nella volontà proprio dell'autrice in maniera esplicita allora abbiamo il confronto fra le piccole occidentali raffinate dalle zazzerette corte dai pigiami multicolori inebriate di sigarette e di cocktail piccole statuette moderne dalle pose ardite e dall'altra le loro sorelle lontane avvolte nelle pieghe dei loro pepli rossi e blu chiuse e solitarie come clarisse d'amore viventi una vita di rinunzia e di obbedienza umili e nascoste senza un orgoglio senza una gioia senza un sorriso allora il confronto che cade a tutto vantaggio delle donne indigene che sono per l'appunto donne e non femmine si gioca sul piano del rifiuto o della placida accettazione del proprio ruolo riproduttivo allora cito nuovamente per voi modernissime donnine dagli atteggiamenti di giovani e febi di maschiotti indipendenti la maternità così femminea è diventata quasi un controsenso che non si può accoppiare nell'immagine una testurina da ragazzo un corpicino senza forme da adolescente con la greve rotondità che appesantisce sforma e trasforma e diventa ridicola nella vostra personcina mascolinizzata esse invece cioè le donne arabe che sotto le innumerevoli pieghe del baraccano cerano con orgoglio le forme più femminilmente procaci nella maternità trovano la gloria più grande e lo scopio più alto della loro vita cioè mi pare evidente che almeno in apparenza la scala valoriale individuata da Perricone e Violà ponga la donna emancipata al di sotto della donna indigena la quale invece accetta la propria femminilità e la fa coincidere con la maternità una tale impressione poi secondo me confermata dall'altro racconto e mi avvio verso le conclusioni anche questo è strutturato come un racconto a tesi e si svolge intorno alla conversazione dicevamo fra un gruppo di donne bianche e un gruppo di soldati coloniali io qua adesso ridurrò a una donna bianca diciamo emancipata e un soldato coloniale per ragioni di tempo allora la prima che è sensuale spigliata sessualmente disponibile e capricciosa comincia ponendosi retoricamente in una posizione di inferiorità sensuale rispetto alle donne indigene e abbiamo qui tutto il repertorio sostanzialmente dell'orientalismo e di sete profumi corpi che si vedono e si immaginano sotto delle stoffe molto pregiate e quindi salto qua la citazione ma lei si pone appunto dice noi donne bianche emancipate siamo meno sensuali delle donne indigene perché noi facciamo vedere tutto mostriamo il nostro corpo mentre le donne indigene conoscono ancora il fascino del vedo non vedo sostanzialmente dall'altra parte però abbiamo la voce del soldato coloniale che mi sembra abbastanza evidentemente rappresentare il punto di vista dell'autrice e siamo qui di fronte a una narrazione che pur mantenendo ben chiara le distinzioni gerarchiche fondate sulla razza arriva però a creare una gerarchia in cui la donna indigena è un gradino sopra rispetto alla donna emancipata e cito sono del parere signora che nelle sue grandi pulsazioni il cuore umano se c'è batte con lo stesso ritmo che in qualunque mondo si trovano donne che non sono che pupattole più o meno raffinate e che se ne trovano altre che sono vere donne e non sono bambole e poi prosegue ma io non paragono tra bianche e arabe perché i confronti sono sempre antipatici e in questo caso fuori luogo perché si tratta di due razze che hanno fatto cammini differenti l'una rapidissima l'altro quasi strazionario quindi abbiamo una distinzione gerarchica fondata sulla razza nettissima eppure come come conclude è vero ogni loro sentimento delle donne arabe è più selvaggio e più primitivo ma esse pure sanno amare e soprattutto sanno soffrire quindi c'è il riconoscimento alla fine dell'umanità per quanto differenziale di queste donne allora abbiamo visto due diverse strategie di rappresentazione della donna bianca allora nel primo caso quello della ballario abbiamo una distinzione nettissima da un lato la donna bianca tradizionale dall'altro lato quasi alleate fra di loro a mettere in crisi il primato della donna modello abbiamo l'indigena e l'emancipato in questo secondo caso che abbiamo appena visto di perricone violà la situazione è più ambigua si sviluppa secondo una traiettoria più complessa e abbiamo una donna indigena che è in qualche moralmente perlomeno superiore per la sua maggiore vicinanza alla natura cioè per la sua per il suo ruolo per l'accettazione del proprio ruolo riproduttivo è superiore alla donna emancipata la quale con l'artificialità del proprio comportamento invece degenera e si degrada al di sotto del proprio status razziale allora per concludere vorrei brevemente accennare un terzo caso nel quale tutto il nostro discorso mi sembra venire possa venire ribaltato sostanzialmente perché nel romanzo di Raffanelli L'Oasin che come dicevamo viene pubblicato con il nome di Etienne Gamalier nel 29 perché per come dire per aggirare la censura e infatti l'intero romanzo è ambientato in una colonia francese non in una colonia italiana la scrittrice anarchica Leda Raffanelli propone una narrazione dei modelli di femminilità che mi sembra essere invertita rispetto a quanto da noi visto fin qui la protagonista è una donna emancipata libera autonoma convertitasi all'islam e trasferitasi in colonia quindi sostanzialmente è un alter ego di Leda Raffanelli che riesce però a trasferirsi in colonia cosa che lei non riuscirà mai a fare nonostante si fosse convertita all'islam e dicesse di aver passato un periodo di tempo inizio novecento in Egitto su cui però ci sono molti dubbi allora la protagonista donna bianca emancipata aiuta la deuteragonista una donna indigena molto giovane a uscire da una relazione che noi definiremo tossica oggi una relazione con un uomo bianco sposato che intrattiene con lei un rapporto di natura esclusivamente sessuale ma l'elemento interessante è che in conclusione del romanzo le due donne quindi alleate contro il maschio bianco potremmo dire adottano insieme prefigurando una sorta di rapporto omoerotico adottano insieme un bambino nero di origine subsahariana allora la donna emancipata e la donna indigena vengono qui rappresentate come alleate quindi contro il maschio bianco e più in generale contro la violenza dell'istituzione borghese del matrimonio e quindi con il problema che la Raffanelli si è molto forte delle adultere sostanzialmente delle amanti extramatrimoniali e in conclusione quindi si alleano contro il modello normativo della donna bianca tradizionale ora è evidente secondo me che siamo qui di fronte a un caso limite infatti è l'unico romanzo coloniare perlomeno di quelli tra me individuati che sia espressamente anche anticoloniale tuttavia è importante sottolineare che la struttura narrativa di questo romanzo è identica a quella di tutti gli altri cioè la storia cambia ma la trama rimane invariata cambiano i significati ma non i significati cioè l'opposizione fra la donna bianca modello e la donna indigena e la donna emancipata continua a esserci e il motore dell'azione ma esattamente come nel romanzo di Ballari ma in questo caso i valori sono invertiti il punto di vista diventa quello della donna indigena e della donna emancipata ora una tale situazione dipende dalla diversa posizione che occupano le autrici all'interno del discorso in cui si trovano a parlare Ballari o è scrittrice di romanzi popolari e il suo romanzo è quello più espressamente legato agli stereotipi del romanzo coloniale pur Perricone Violà ha esperienza diretta della colonia e i suoi personaggi hanno tutto il gusto del racconto autobiografico perlomeno così pare a me Raffanelli militante anarchica scrive un romanzo che si traduce prima ancora che in narrazione che è una narrazione popolare esattamente come quella di Ballario ma si traduce in un manifesto politico prima ancora che in una narrazione pura ma quindi basta questo mi chiedo io cioè possiamo risolvere il problema del posizionamento della donna bianca ricorrendo a una categoria come quella di volontarismo o esiste un sistema più ampio il sistema coloniale nella fattispecie nelle sue declinazioni di razza di genere e classe che informa lo scrivere e l'agire di autrici e autori di romanzi coloniali cioè possiamo ancora usare categorie che io in realtà ho usato poi in questa mia relazione come ideologia idioma culturale discorso cioè possiamo usare queste categorie per spiegare la permanenza di strutture significanti a fronte di una sostanziale difformità dei significati e questo chiaramente valido ad ogni livello anche a quello del mio essere qui oggi della mia posizione all'interno del discorso in cui mi trovo volente o nolente a parlare ora sia chiaro insomma che io non ho nessuna risposta definitiva molte ipotesi o molte domande quello che posso fare è provare a capire per citare Raymond Carver che abbiamo citato nel nostro panel da dove sto chiamando cioè di provare a capire e a situare il punto di origine delle voci che emergono dal passato e di cui io momentaneamente sono il tramite capire ogni fonte da dove arrivi e dove mi stia conducendo oltre a questo non ho altro da aggiungere e vorrei chiudere citando una siccome è bellissima citazione di Maurice Goldstein che recita indicare il problema era il mio intento ma non è colpa mia se non conosco la soluzione grazie mille grazie grazie molto interessante questa tua chiosa cioè che insomma sul posizionamento tuo ma dei dei relatori di questo panel rispetto al tema del posizionamento della della donna bianca io darei subito la parola alla discussant che è Valeria De Plano ricercatrice di storia contemporanea presso di Cagliari che si occupa moltissimo tempo di storia del colonialismo italiano prego Valeria grazie 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 Simona e grazie a Michele Luca Francesco per avermi sollecitato a riflettere su su questo tema per avermi dato la possibilità anche di di ascoltare le loro le loro ricerche che sono ricerche come si è visto secondo me molto diverse l'una dall'altra che diverse dal punto di vista della collocazione temporale diverse dal punto di vista anche della collocazione geografica Luca ha parlato di una colonia che è una colonia da alcuni punti di vista che lui ha ben ricostruito nel suo nel suo intervento ma anche grandi punti di differenza e secondo me è molto utile come esercizio di riflessione sgomberare scegliere un caso così eterogeneo sgomberare il campo da alcuni elementi per capire come lavorano gli altri elementi di continuità su questo magari ci torno trovo molto originale proprio il ragionamento che sta dietro al panel cioè quello di non negare la colonia per maschi come recitava il titolo di un libro di Giulietta Stefani quindi la colonia costruita guardando ai maschi come agenti della colonizzazione ma anche come destinatari fruttori e frutto del discorso del sistema coloniale quindi non eliminando tutto ciò perché tutto ciò ritorna è il contesto dentro il quale agiscono anche le donne che stanno al centro delle tre relazioni secondo me però contemporaneamente una colonia che non può essere considerata come cosa esclusiva dei maschi che si rapportano alle donne africane e secondo me è proprio interessante questo aver cercato di mettere e aver messo questo elemento a fuoco se le donne colonizzate in quanto donne in quanto razzializzate sono soggette a una duplice discriminazione dall'altra parte abbiamo questi soggetti differenti che sono le donne italiane e colonizzatrici che ricoprono un ruolo specifico a cui è chiesto di ricoprire un ruolo subordinato all'interno di una società che è anche la società coloniale io credo che sia sempre utile ragionare sul fatto che la società coloniale è una parte della società in questo caso italiana e delle diverse società europee e contemporaneamente però sono anche colonizzatrici quindi ricoprono un ruolo di privilegio hanno un ruolo di di potere dentro la società coloniale peraltro secondo me un altro elemento che emerge in tutte e tre le relazioni anche se con una diversa evidenza è la questione della classe quindi sono non sono soltanto donne italiane colonizzatrici ma sono donne italiane borghesi alto borghesi quindi una delle prime domande quindi mi aspetto che rispondano i tre relatori perché chiaramente la loro ricerca ha un tema un oggetto delle fonti specifiche però più in generale sarebbe interessante capire se donne che hanno un posizionamento di classe donne italiane con un posizionamento di classe differente complicano ulteriormente questo questo discorso e questo e questo quadro però questo la metto veramente come elemento per una riflessione generale quindi non chiedo chiaramente se hanno qualcosa da dire sarà molto interessante ascoltare trovo che appunto quindi con questa con questo punto di partenza di mettere a fuoco questi questi soggetti con un posizionamento particolare che è dalla parte di chi colonizza e contemporaneamente dalla parte di chi è subordinato all'interno della società io credo che assumendo questo punto di partenza siano due temi che emergono in tutte e tre le relazioni o quantomeno siano due le domande nei confronti delle quali le tre relazioni propongono degli spunti di riflessione da una parte mi sa che l'ha detto Francesco nell'ultima relazione l'ha esplicitato proprio anche se si trova nelle altre due relazioni è come le donne bianche italiane contribuiscono all'elaborazione del discorso coloniale e contribuiscono più in generale a fare la colonia se la colonia è anche un terreno costruito nell'immaginario mentre è anche prima di quanto venga agito la domanda è come questo sguardo particolare delle donne italiane contribuisca a articolare il discorso coloniale più generale che è prevalentemente un discorso costruito dagli uomini l'altro filo rosso è quello di come al contrario lo spazio coloniale la dimensione coloniale contribuisca a definire o a ridefinire le donne bianche italiane e il loro ruolo quindi la donna che agisce sullo spazio coloniale è lo spazio coloniale che agisce sulle donne io ritengo che però questa è una domanda che faccio tra i relatori sul primo tema quindi donne che contribuiscono a costruire un discorso sulla colonia e quindi la colonia gli elementi mi sembra che quello che emerge dalle tre relazioni è che in realtà non ci sia un contributo particolarmente originale da parte delle donne o per meglio dire il punto di vista femminile riserva meno sorprese non ci sono enormi discrepanze nella relazione di Michele si si vede come ci siano degli spazi diversi dei punti di osservazione diversi anche per riprendere il titolo di questo di questo panel che consentono di guardare maggiormente a temi diversi quindi alla allo spazio privato mentre gli uomini tendono maggiormente a raccontare lo spazio lo spazio pubblico la parte più strettamente militare amministrativa del fare la colonia dell'essere in colonia mi pare però che in realtà pur aggiungendo magari dei punti di vista chiederei anche quanto aggiungendo perché forse lo sguardo dei soldati che andavano in colonia e che avevano anche un certo modo ulteriore di vivere e di vivere la colonia offre degli spunti di riflessione sempre su questa prospettiva quindi sul privato però mi pare che sostanzialmente non ci siano delle rivoluzioni non ci siano delle rotture molto nette però questa è una domanda questa è un po' un'impressione che ho avuto ascoltandovi ovviamente è un dato che è storicamente significativo anche questo non è un dato neutro o un non c'è niente di nuovo vuol dire che la la posizionalità diversa magari contribuisce ad arricchire il quadro ma non lo stravolge nelle sue linee portanti penso ad esempio a sempre sempre Michele della sua relazione ha citato un passaggio nella sua fonte che definisce salvaggio primitivo da civilizzare il luogo il luogo attraversato da Rosaria a Bossiner quindi mi pare che da questo punto di vista ci sia una conferma che appunto ripeto è un dato comunque storicamente interessante dal mio punto di vista più articolato è quello che viene fuori a mio parere se si guardano queste tre analisi dal punto di vista della colonia che agisce sulla figura delle donne italiane più articolato non porta a una definizione univoca però complica il quadro mi pare parto qui dall'ultima relazione quella di Francesco che mette in evidenza come nei primi due casi quelli che ha analizzato più a lungo e più a fondo alla fine pare che il romanzo coloniale anche quando non l'esplicita comunque porti a supportare un modello normativo di femminilità bianca nel primo caso è un modello che alla fine è vincente anche se viene messo in difficoltà dalle altre due figure a quella della donna emancipata e quella della donna della donna africana però alla fine mi pare palese che quello che la morale del romanzo sia che il modello giusto quindi il modello al quale le lettrici perché immagino che fossero libri destinati a un pubblico femminile le lettrici si devono identificare o comunque anche i lettori devono vedere come il modello positivo è quello della femminilità normata femminilità bianca normata e mi pare che sia anche il punto di arrivo del secondo romanzo che addirittura per supportare l'idea che esista un modello di femminilità normata mette se non sovverte mette in discussione in qualche modo anche la gerarchia la gerarchia razziale quindi donna emancipata sta sotto donna africana sopra di tutte però sta la donna italiana bianca che ha un comportamento morale che è quello accettato e prescritto nella società nella società italiana questo forse l'ho accettato prima non so se l'ho detto in maniera abbastanza esplicita io sto ragionando di modelli che valgono per l'Italia non che valgono per la colonia nel senso che valgono per entrambe non solo per la colonia rispetto alla sollecitazione dell'ultimo romanzo che trovo molto interessante a me sembra che si tratti della proverbiale eccezione che conferma la regola nel senso che i significanti rimangono uguali perché funzionano perché sono quelli gli elementi su cui si struttura un romanzo un romanzo coloniale io non sono esperta l'esperto qui sento Francesco quindi te la pongo come 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 domanda i significanti sono gli stessi lo stesso è il contesto ma se è quello il contesto che viene utilizzato per proporre dei modelli che siano validi anche per un pubblico che non sta in Africa ma che sta in Italia allora si usano quegli elementi per proporre un modello diverso ma appunto eccezionale eccezionale perché rompe completamente quella norma che rimane rimane norma però altrimenti non ci sarebbe la rottura il romanzo però ha una dimensione particolare il romanzo ha una funzione esplicitamente performativa quindi si sceglie che cosa raccontare quindi trovo interessante anche far dialogare questa fonte con le fonti che invece utilizzano Luca Luca e Michele che sono fonti non destinate a dare dei modelli alle lettrici e ai lettori ma a raccontare raccontare se stessi in questo caso Michele l'ha detto molto chiaramente questa colonia che si che interagisce col col fatto di essere donne è una colonia duplice perché è la colonia dove chiudo velocemente Simone ti vista a parire credo che sia un invito a non dilungarmi è una colonia dove convivono due possibilità una è quella di appunto fare ciò che il modello normativo femminile bianco impone quindi essere la madre della nazione e mi sembra che alla fine sia questo il modello che domina contemporaneamente la colonia è un'altra cosa è lo spazio dove è accettato ciò che non è accettato in nello spazio metropolitano e questo secondo me è molto interessante perché per le donne funziona a me personalmente lavorando su fonti orali intervistando donne che sono state in colonia ha colpito le bianche che sono state in colonia ha colpito effettivamente che in colonia la colonia diventasse lo spazio dove si potevano fare cose che non erano accettate nella società degli anni 30 italiana ad esempio fumare quindi la colonia ha questa questa è questo spazio comunque altro dove da una parte è uno spazio in cui si può ragionare in termini di società unita alla società metropolitana ma è anche quello dove ci sono delle possibilità diverse l'unica nota è che questo non vale solo per le donne per le donne vale per alcuni le donne hanno una vita più normata devono sottostare maggior numero di imposizioni probabilmente dentro la società italiana e quindi è più evidente questa discrasia però anche per gli uomini la colonia è addirittura il discorso coloniale presenta la colonia come il luogo dove gli uomini possono fare ciò che non possono fare legittimamente in Italia un'altra cosa che a me sembra evidente ah no aspettate su questo punto invece della relazione di Luca trovo lo stesso un contesto completamente diverso ma mi sembra che convivano questi due questi due elementi la colonia è lo spazio in cui le donne fanno ciò che le donne per di più le donne che hanno quel ruolo all'interno della società quindi donne dell'alta borghesia in questo caso con loro agire con loro agire sociale non sovertono il loro il proprio ruolo e anzi contribuiscono a strutturare una società che mantiene le stesse regole anche in un contesto particolare come quello della Cina contemporaneamente trovano degli spazi che possono essere degli spazi di rottura mi chiedo e chiedo a Luca se è questa la dimensione in cui può essere eletto a quella resistenza al fascismo comunque a quello quello sguardo critico nei confronti del fascismo l'ultimo elemento è quello della gerarchia razziale che se può essere sovvertita in qualche modo messa in discussione nel romanzo mi sembra che non venga sovvertita sicuramente non nello sguardo dell'Eritrea di inizio novecento e anzi anche di prima della relazione di Michele e neanche in quello di Luca anzi io credo penso e anche qui chiedo se questa scomparsa delle donne cinesi non sia altro che è semplicemente una testimonianza di come in un contesto di colonialismo che non è colonialismo di popolamento neanche in fieri come può essere quello dell'Eritrea nel periodo analizzato da Michele chiedo se proprio questa scomparsa non possa essere letta come il fatto che stiamo parlando di una società in cui la gerarchia è tale che non ci si incontra neanche quindi non c'è la necessità una persona scrive ciò che vede che vive quindi non si vede non si vive il contesto locale in cui si è calati perché il contesto di fatto è un contesto coloniale di separazione qui emerge secondo me la grande differenza tra Cina e Africa e Africa orientale avrei altre cose ma ho dilagato anch'io alla fine quindi chiudo qua e vi ringrazio ancora grazie Valeria mi spiace che ogni volta che io appaio in video come insomma assomiglia a Cavalieri dell'Apocalisse insomma che pronuncio sventure benissimo io direi prima di raccogliere c'è qualche domanda di raccogliere qualche domanda e poi di dare un rapidissimo giro di risposte da parte dei relatori faccio giusto una piccola annotazione io mi domando se la colonia come spazio visto come spazio di maggiore libertà da parte degli italiani degli individui che vengono dall'Italia questa percezione sia dovuta anche al fatto che la società bianca che si costituisce in colonia è una società giovane è una società dove non ci sono le nonne secondo me è una società dove si rompono i rapporti tra generazioni non ci sono le nonne di solito in colonia e questo forse contribuisce anche a creare maggiori spazi di libertà perché a giudicare nella metropoli poi non sono solo i mariti ma sono anche le mamme le zie le nonne eccetera eccetera ecco io darei la parola a Raffaella Sardi che voleva fare una domanda e poi un rapidissimo giro di risposte proprio telegrafiche ai relatori prego non sentiamo non credo che la vedremo perché forse non è previsto che però sentire non potete vedere adesso forse mi sentite esatto si si sentiamo infatti si può attivare l'audio ma non il video grazie per per le relazioni avevo una domanda un po' trasversale che partiva proprio da questo ultimo punto che diceva diceva Valeria della scomparsa delle donne cinesi allora è stato abbiamo è stato evocato anche Hans Stoller e l'idea dello spazio domestico come uno spazio di rapporti intimi allora noi abbiamo per quel che riguarda per esempio il diario di Edda Ciano e questa vita frenetica della della casa di della loro casa di Ciano e di Edda Mussolini cioè una 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 casa di questo genere implica la presenza di evidentemente uno staff di cuochi camerieri chi più ne ha più ne metta evidentemente allora questo staff ci sono notizie di questo staff erano staff eh dal punto di vista diciamo così etnico erano staff che in parte era stato portato dall'Italia erano staff reclutato a livello locale e poi siccome adesso ci sono anche molti studi su tutta la mascolinità degli staff soprattutto asiatici penso agli studi di Kedlowry Victoria Haskins Martinez questi questi questo staff se ci sono notizie erano staff maschili o c'erano anche delle donne e insomma ci sono delle notizie sui rapporti con con questo staff nello spazio della di questa casa con valenze evidentemente estremamente pubbliche anche e la domanda la rivolgo però anche a anche le cento riguardo a al 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 caso che lui ci ha ci ha illustriato cioè la Bossiner nel nel suo libro parla anche di questi aspetti di vita di vita domestica e di eventuali rapporti e chi sono appunto eventualmente le persone e lo posso estendere anche poi a tutti gli altri romanzi insomma diciamo così diciamo partendo da questi casi diciamo così più personali in cui c'è un aspetto personale poi anche la rappresentazione dei romanzi che questo aspetto mi sembra che questo terreno di incontro e spesso di sconto insomma così indagato così è uno spazio che è molto studiato negli ultimi anni come un elemento cruciale per la costruzione delle gerarchie di genere coloniali razziali quindi mi sembra che mi chiedevi avere un po' uno sguardo su questo ambito se c'è nelle vostre fonti grazie grazie una proprio rapidissima domanda a parte di Valentina Fusari per Michele Cento e poi un rapidissimo giro di risposte prego Valentina buongiorno grazie a tutti per l'intervento molto velocemente per quanto riguarda le scritture femminili c'è una parte che mi sembra resti particolarmente in umbra e che sia anche antecedente alla presenza della Bossiner che è la scrittura delle donne missionarie oppure forse come diceva bene Francesco non basta essere femmine per essere donne quindi queste non vengono considerate donne cioè dal 1866 abbiamo le donne svedesi 1878 le francesi 1895 le figlie di Sant'Anna che qui ci sarebbe anche una bella considerazione in termini di classe cioè a che classe appartengono le missionarie che afferiscono questo ordine tutte queste donne scrivono scrivono fra di loro scrivono su altre missioni scrivono le loro le loro le loro memorie e vengono appunto anche in contatto con le donne italiane l'istituto degli innocentini è aperto appunto insieme e grazie alle figlie di alle figlie di Sant'Anna quindi c'è secondo me questo lavoro di ruolo di madre che diventa poi anche un ruolo di maternage che si esternalizza rispetto alla riproduzione cioè amplifica la riproduzione sociale e sacrifica la riproduzione biologica chiudo qui grazie grazie allora abbiamo tre minuti quindi un minuto a testa molto molto telegrafici prego iniziamo con Michele Cento e grazie grazie a tutti grazie a Valeria e a tutti chi è intervenuto questo è rapidissimo allora questione della classe penso che sia in effetti rilevante quanto adesso diceva Valentina Pusani mi pare di tenere assolutamente in considerazione infatti io speravo sollecitavo che ci fosse qualcuno a dirmi che c'erano altre come dire fonti in effetti credo che il problema della classe abbia anche a che fare con quello che diceva Valeria che qui sono sicuramente d'accordo sul fatto che come dire nella rappresentazione della colonia non c'è come dire non c'è nulla tra virgolette di sorprendente la logica della civilizzazione viene ribadita credo che ci sia come dire un supplemento un complemento che però che però mostra e questo mi pare il punto che però mostra i vuoti cioè i buchi della civilizzazione italiana la civilizzazione europea in generale cioè di tutta quella logica che appunto puntava a risollevare allo stato della civiltà i popoli che ne erano che come dire che dal da quando si è iniziata a ragionare sulla storia del genere umano ne erano ne erano fuori sulle gerarchie razziali penso anch'io che sia assolutamente cioè sia un dato che insomma non venivano messi in discussione appunto credo che che comunque un pezzo comunque della della rivendicazione di libertà di indipendenza passi da un processo di empowerment che ha la sua base nella gerarchia razziale rispetto alla domanda di Raffaella Sarti c'è diciamo ci sono dei riferimenti alla alla diciamo la vita domestica diciamo mi viene poi all'inizio del romanzo del diario di viaggio Bossinè dice ma in fondo come dire mi è stato facile abituarmi alla nuova vita perché invece di una cameriera italiana sono una cameriera sudanese insomma per quanto poi appunto ne mostri le diversità la 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 si burravano i capelli insomma ne mostra le mode stravaganti e c'è però anche una presenza maschile tra gli attendenti in realtà è l'attendente del marito che si chiama Jacopuzzi che però insomma ovviamente collabora anche in generale alla casa e che viene descritto come fedele come appunto attento come e in qualche modo qui sì evidentemente tanto la posizione di moglie del colonnello tanto la classe sociale evidentemente ridetermina o rimette in tensione invece il rapporto tra tra bossi nera e l'attendente maschio ecco e quindi insomma ovviamente c'è una fedeltà anche a lei insomma mi fermo qui va bene io darei la parola a Luca Nigro rapidissimo anche tu se puoi sì sono questioni comunque interessantissime cerco anche di essere molto veloce per quanto riguarda quello che diceva Valeria sulla resistenza al fascismo è fondamentalmente il grande problema del del mio intervento nel senso che a una certa insomma esiste una un'identità tra chi è iscritto al fascio e chi è la donna italiana nella colonia di Shanghai motivazione per cui non è chiaro quanto il nome presente all'interno di una di un'organizzazione come quella significhi l'accettazione dei valori del fascismo quindi anche quella resistenza di Luisa Fabri diciamo che è complicata non la daterei così tardi forse forse la la daterei un po' prima rispetto a quello che poi ha riposato nelle sue memorie però insomma diciamo che è quello che forse fa cioè mostra la contraddizione per quanto riguarda le gerarchie Maurizio Marinelli ha parlato soprattutto per la colonia di Tianjin ma credo si possa applicare anche la concessione internazionale di Shanghai ovviamente in spazi molto più ristretti se consideriamo solo la concessione non l'intera città di iper colonialità inteso fondamentalmente eliminare la parte cinese dal contesto delle gerarchie e ragionare fondamentalmente in una sfida tra potenze vincitrici in cui si crea una iper italianità esibita attraverso fasti vita mondana che appunto non rispecchia effettivamente la donna italiana nel territorio italiano ma anche per esempio sulla questione architettonica e questo tipo di italianità viene giocata solo tra le potenze vincitrici motivazione per cui viene eliminata la parte cinese per quanto riguarda invece anche per continuare in realtà il discorso con la domanda di Raffaella Sarti riguardo allo spazio domenico in Messico effettivamente per quanto riguarda i diari di Addaciano viene viene nominata semplicemente la tata la tata è italiana viene portata da lì peraltro è stata anche molto severa a cui viene chiesto qualsiasi cosa anche l'educazione di Fabrizio che non impara fondamentalmente cinese nel 1911 però era apparso era apparso un diario di Maria Maria Panza Emiliana Moledino Ambasciatore che descrive come lei aveva fatto lei era stata in una casa cinese e aveva visto come in realtà anche lì si procedesse per gerarchie quindi lei diceva cosa fare a questo quello che lei chiama head boy un mister quo che poi ordina ai vari culi che sono nella nella casa ai vari fattorini insomma e alle varie fattorine quindi anche lì per gerarchia non c'è un reale contatto tra una donna servitrice e la parola della casa in Cina che sia eventualmente italiana io io darei la parola a Francesco guarda sono ti dispiace Luca perché siamo abbiamo sforato sono stati molto disobbedienti io sarò veramente un missile allora rispetto alla questione della classe che secondo me è interessantissima devo essere sincero la questione della classe rispetto alla questione femminile ho veramente poco da dire nel senso che le autrici di romanzi sono comunque tutte donne uomini ma a parte un caso specifico che tra l'altro un romanzo che è stato recentemente ripubblicato a cura di Alberto Alpozzi che è scritto a Dante Saccani che era un concessionario di Genale ripubblicato in una casa editrice di ambiente neofascista in realtà non ci sono cioè tutti gli autori e le autrici sono di persone più o meno colte o comunque ex militari c'è la questione della classe che secondo me emerge e nel romanzo coloniale emerge ovviamente legata la questione razziale e che ci sto lavorando in realtà proprio in questi giorni per la mia tesi di dottorato sto lavorando sul capitolo lì però io la leggo più alla rappresentazione del lavoro e delle forme di resistenza al lavoro sia da parte degli indigeni ci sono in alcuni romanzi rappresentazioni di scene di sciopero distruzione dei macchinari eccetera oppure altrettanto interessante la rappresentazione del bianco che rifiuta il lavoro e quindi diventa un po' come per la donna emancipata risulta inferiore rispetto agli indigeni in particolare nella rappresentazione di quella che io riprendo da i lavori sul sul ribellismo atlantico diciamo la motley crew quindi questa moltitudine colorata che non corrisponde alla bianchezza dell'Europa rispetto alla questione di Raffanelli e delle come dire permanenza dei significanti a fronte della difformità dei significati sì sono d'accordo con te è una rottura che mantiene la norma cioè è veramente secondo me è molto interessante come romanzo ma proprio perché riesce a rimanere perfettamente all'interno della tradizione narrativa ribaltandone completamente i significati cioè è quasi un pastiche postmoderno in realtà se uno lo guarda senza la distanza storica e anche questo è uno dei pochi romanzi coloniali che è stato recentemente riedito questa volta da una casa editrice di ambiente diciamo anarchico una casa editrice di Reggio Emilia ed è molto molto interessante come romanzo infine concludo con la domanda della professoressa Sarti che anche in questo caso c'è una rappresentazione abbastanza corposa di lavoratori domestici sono quasi tutti però lavoratori domestici maschi e sono quasi tutti personaggi africani o comunque indigeni e la dinamica che viene istituita è sostanzialmente quella di venerdì Robinson Crusoe quindi il selvaggio che può venire educato ma non è neanche particolarmente interessante per il maschio bianco solitamente che possiede alla fine il suo servitore elevarlo da un punto di vista morale o raziale scusate la rapidità però non volevo sforare grazie mille abbiamo un po' sforato di sette minuti ci perdonerete grazie ai relatori grazie alla discussant grazie agli organizzatori io direi che possiamo chiudere a questo punto giusto Marina Garbellotti che vedo collegata diciamo allora è un consenso va bene ciao a tutti grazie buona continuazione di convegno ecco grazie a tutti a tutti grazie a tutti arrivederci grazie molto arrivederci grazie a tutti